Memori di quanto accaduto lo scorso anno in teme di incendi in regione, i consiglieri Bruni, Bevacqua e Tavernise chiedono a chiuto a che punto è la prevenzione in Calabria. Ancora ovviamente sono sotto gli occhi di tutti quanto è successo lo scorso anno. Dicono i tre consiglieri regionali di aver depositato un'interrogazione a risposta scritta per conoscere quali sono le strategie che la regione intende adottare e quale già entra in prese per incrementare la capacità di previsione, prevenzione e controllo degli incendi in Calabria. Proprio a tutela del patrimonio boschivo. Tutti sappiamo che è compito della regione promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione e mitigazione del rischio tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi. In tal senso i telespettatori conoscono e ricordano la tragedia che si è verificata lo scorso anno, nella scorsa estate, quando vasti incendi hanno colpito gran parte del territorio calabrese e in particolare la Locrida e la Spromonte, provocando oltre una grave perdita di biodiversità anche alcune perdite di vita umana. Ricorderemo tutti il nonnino di grotteria e tante altre persone che purtroppo sono morte per via degli incendi. Secondo alcune analisi preliminari svolte dall'associazione di categoria che si occupa di tutela del territorio, sono oltre 7.000 gli ettari distrutti dal fuoco nel solo parco nazionale della Spromonte. I danni causati non sono quantificabili e soprattutto non sono ristorabili, avendo perduto alcune zone di grande pregio e rilevanza internazionale, come il Bosco Vetusto di Accatti, che non sono in alcun modo replicabili e che potranno rigenerarsi in situazioni simili in un tempo compreso tra i 500 e i 700 anni. Pensate un po'. Eventuali ritardi o la mancata attività di salvaguardia del patrimonio boschivo potrebbero dunque comportare ulteriori profonde ferite per il territorio. Per questo i consiglieri regionali di opposizione Bruni, Tavernise e Bevacqua chiedono al Presidente Occhiuto un'azione diretta e immediata, che faccia prevenzione per evitare quello che è accaduto lo scorso anno. Ancora gli stessi consiglieri hanno domandato al Presidente Occhiuto se sono stati approvati dei progetti di prevenzione, anche utilizzando mezzi tecnologicamente avanzati, come droni e satelliti, per la raccolta di dati, immagini e i parametri meteoclimatici, così come era previsto dal Piano Antincendi Bioscrivi, approvato dall'Aggiunta lo scorso 30 aprile.